Terra, amara anticipazioni. Nel nuovo affascinante episodio che vi sto per presentare, vi immergerete in un vortice di mistero e suspense che lascerà il vostro cuore palpitante. Con l'arrivo sorprendente di Fikret alla maestosa villa, il sipario si apre su una scena carica di tensione e segreti sepolti. Le espressioni preoccupate di Lutfaye e Zuleya dipingono il quadro di un enigma che attende di essere risolto, mentre Fikret, avvolto nel suo silenzio, tessere sottili fili di mistero intorno a sé. Il suo sguardo, carico di interrogativi senza parole, getta luce su un'intricata trama che sta per rivelarsi. Ma quando una domanda improvvisa su Kerem si insinua nell'atmosfera già carica di suspense, capirete che dietro ogni parola e ogni silenzio si nasconde un segreto profondo, pronto ad essere svelato. In un'atmosfera di apparente tranquillità nel sontuoso salone, Lutfaye cerca disperatamente di placare le crescenti preoccupazioni. Sussurra con un sorriso forzato, cercando di dissipare la tensione che si è insinuata nell'aria densa. Ma nonostante i suoi tentativi di rassicurazione, un'ansia palpabile avvolge i cuori di Lutfaye e Zuleya, spingendoli ad insistere con Fikret per svelare il mistero dietro la sua agitazione. Dopo un breve momento di resistenza, Fikret cede alla pressione e svela un segreto sconvolgente. Lo zio di Kerem ha intenzione di portarlo negli Stati Uniti. La notizia colpisce Lutfaye e Zuleya come un fulmine, lasciandole attonite di fronte a una realtà che cambierà il corso delle loro vite. Nel frattempo, Fadik guida Kerem, stringendolo a sé e promettendo di proteggerlo da qualsiasi minaccia di separazione. La narrazione si sposta su Betul, ospite nella dimora di Kolak, mentre con calma prepara le sue valigie. Comunica a Kolak che non può più restare, mentre le voci che circolano a Kukurova la dipingono come l'amante di Kolak, un'accusa che suscita indignazione in quest'ultima, pronta ad affrontare chiunque osi offendere la sua reputazione. Nell'ufficio legale, avvolto nella penombra, l'avvocato di Zuleya si rivolge con solennità a Fikret e Lutfaye, esponendo la situazione con gravità. La tensione è palpabile mentre l'avvocato sottolinea che, secondo la legge attuale, lo zio avrebbe il pieno diritto di portare il bambino negli Stati Uniti. Una volta trasferito là, anche in caso di una vittoria legale di Fikret, la restituzione del bambino non sarebbe garantita. Siamo dunque ancora immersi in una complessa battaglia legale, avverte l'avvocato, con il rischio concreto che lo zio possa ottenere la custodia. Fikret, visibilmente turbato da questa prospettiva, ribatte con fermezza, è come un figlio per me, non permetterò che me lo portino via. Tuttavia, l'avvocato lo mette in guardia, avvertendolo che lo zio potrebbe arrivare in qualsiasi momento, avendo dalla sua parte la legge. Zuleya, alla ricerca di una soluzione disperata, suggerisce «Forse l'unica via d'uscita è offrirgli una somma considerevole, una montagna di soldi, qualsiasi cifra desideri». La discussione si trasferisce poi sulle potenziali conseguenze di una simile decisione con l'avvocato, che esorta Fikret a riflettere anche su se stesso. «Pensa anche a te stesso», lo incalza. Nel frattempo, Betul si trova nella dimora di Sermin e l'ansia è palpabile nell'aria. Sermin condivide le sue preoccupazioni con Betul, entrambe inquiete per l'assenza di Kolak che ancora deve fare la sua comparsa. Betul risponde con una certa diffidenza, esprimendo la sua convinzione che Kolak non si metterà a inseguirla come un liceale innamorato. In questa delicata scena, Sermin manifesta una speranza contrastante con il clima teso che permea la dimora di Kolak. «Speriamo di non perdere questa fortuna, sarebbe un vero spreco se l'eredità di Kolak finisse allo Stato», afferma con determinazione, esprimendo il suo desiderio di preservare l'eredità. Suggerisce un'ottica pragmatica, quasi come se la ricchezza accumulata dovesse servire a un fine più grande. L'ingresso del signor Kolak, figura centrale di questa storia, aggiunge un ulteriore strato di complessità. Mentre Sermin offre un tè, l'atmosfera si carica di aspettative. Kolak, con sguardo diretto, si rivolge a Betul, cercando un contatto, chiedendo come sta. La risposta di Betul, intrisa di amarezza, rivela il peso delle malelingue che circolano su di lei nella comunità di Cucurova. Il gesto di Sermin nel promettere di proteggere Betul dalle maldicenze della comunità, suggerisce un legame forte tra le due donne, mentre il calore del tè contrasta con la tensione nell'aria, emergendo nodi intricati di destini intrecciati. La dimora di Kolak diventa il palcoscenico di una serie di scelte cruciali, dove il passato si intreccia con il presente e il destino di Betul si riflette in un contesto sociale complesso. Decisa a non tornare a quella vita di Pettegolezzi, Betul ribadisce il suo desiderio con determinazione. «Tutti parlano alle mie spalle», confessa con amarezza. In questo momento di incertezza, Kolak propone un piano audace. «Ci vedremo in Antalya o a Istanbul. Prenderemo un aereo e ci incontreremo altrove, lontano da Cucurova». Nonostante la speranza di Betul in una proposta di matrimonio, le attese rimangono insoddisfatte, lasciandola in balia di un futuro incerto. Immergiamoci nei meandri di questa storia intricata, mentre Fikret si ritrova immerso in profonde riflessioni insieme a Lutfi, scrutando con preoccupazione l'incertezza che circonda Zuleia e la sua missione di salvare la villa. L'ansia di Fikret emerge temendo le potenziali chiacchiere incessanti a Cucurova. Nel frattempo, Zuleia si prepara con determinazione a fronteggiare la situazione, discendendo le scale con una valigia che custodisce una soluzione al dilemma. Fikret, colto di sorpresa, cerca spiegazioni. E Zuleia, con gesto risoluto, apre la valigia rivelando il bagliore dei suoi gioielli. «Pagherò con questi», pronuncia con fermezza, delineando la sua determinazione nell'affrontare le sfide imminenti. Il crepuscolo avvolge Cucurova, l'atmosfera carica di tensione. Lutfi, con occhi preoccupati, osserva attentamente Zuleia mentre si appresta a sacrificare i suoi gioielli, un gesto significativo carico di simbolismo che non sfugge alla sua attenzione. Tuttavia Zuleia, avvertendo la preoccupazione di Lutfi, la rassicura con fermezza. «Possono essere ricomprati, ma se perdiamo Kerem non c'è ritorno». La risolutezza di Zuleia nel proteggere ciò che conta veramente emerge con chiarezza. Nelle sue parole decide di incaricare un uomo di convertire i gioielli in contanti, un gesto pratico e simbolico del suo impegno a risolvere la situazione a qualsiasi costo. Il video termina qua. Fammi sapere il tuo pensiero nei commenti. Se vorresti il continuo della storia, scrivi